9 novembre World Freedom Day la giornata mondiale della libertà nasce negli Stati Uniti per celebrare la caduta del muro di Berlino simbolo della cortina di ferro la fine del comunismo nell'Europa centrale e orientale era avvenuta in maniera imprevista e repentina anche se da alcuni anni la potenza sovietica stava lentamente indebolendosi alla notizia che i cittadini della Germania Est Repubblica Democratica Tedesca avevano iniziato a recarsi a Berlino Ovest scoppiò una lunga gioiosa festa la lunga battaglia per la libertà era stata vittoriosa dopo più di 28 anni le famiglie potevano riunirsi senza più paura il muro di Berlino simbolo della guerra fredda e delle aberrazioni sovietiche divenne improvvisamente materiale da collezione furono in tanti a portarsene via pezzetti come souvenir oggi quei 20 chilometri della storica striscia di confine sono un tracciato contrassegnato in rosso